Si aveva battuto in 4-7, Feder ha fatto un famoso lobe che ha fatto discutere uno smash mancato clamorosamente dall'allora giovanissimo, Roger Feder ha concesso a New York dopo le uscite e tornei di preparazione sempre a prima torna, poi di colpo con questo, negli ultimi scontri diretti. A rientrare per Malischi, ricordiamo che è stato per lunghi tratti e diverse settimane il compagno di Jennifer Capriati, atleta che è belga, esce, stai veramente impressionando Grandi riflessi ma due explora non bastano alla fine, non chiudendo in modo sufficientemente tranciante. Permette ancora comunque a Malischi in questo duello stretto. Questi lungoline sono deliziosi e ricordano come effettivamente il cittadino più illustre di Wittgenstein ha un grandissimo talento, ha detto che ha schiaffeggiato con molta violenza. leggerina al campo aperto, non abbozza neppure una reazione. divisione battuta in modo chiaro in due set da Amelie Moresco. L'impegno è massima concentrazione al servizio, si sa perfettamente che... due volte che sale da scelta tattica, punti importanti. costantemente belga gira attorno al suo diritto per evitare rovescio, soddisfazione nel can il Vettico con il Lundgren. E' sì. Siamo in match point per Roger Federer. Ancora uno. Ed è quello buono. No. Roger Federer continua, increscendo, dimenticati i momenti bui che hanno portato ad una preoccupante serie di infelici risultati nei tornei di approccio all'US Open. poi, per ritrovare l'emozione della vittoria con il successo su Vanek da prima, confermare e con la possibilità di ricordare le sue potenzialità nel successo chiaro su Chang, ora un test, uno scalino ancora più importante in quello che è scontro fra rappresentanti di, indubbiamente di grande talento della nuova generazione del tennis mondiale. Grazie a tutti.